Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1 rallentamenti per traffico tra Calenzana e BV1 variante in direzione di Bologna. In carreggiata opposta rallentamenti tra BV1 variante di Valico e Badia. Ci spostiamo in A11 dove troviamo coda per lavori tra Lucca Ovest e il raccordo Lucca-Viareggio A12 nella carreggiata in direzione di Viareggio. In Fipilicote per lavori per 3 km tra La Strassigna e Ginestra in direzione Mare, per 2 km tra Ponte della Est e Montopoli-Valdarno verso Firenze e ancora per 2 km tra Montelupo e Ginestra ancora una volta in direzione del capoluogo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze segnaliamo disagi alla circolazione per tre eventi che si stanno svolgendo in città. La manifestazione dei metalmeccanici, il disallestimento, i pitti Immagine Uomo e questa sera i concerti di Firenze Rocks. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!